Abbiamo pochi istanti prima di un altro break di passare anche con voi alla pagina americana di questa serata, però Renzi, siccome abbiamo passato il rassegno alle difficoltà del centrodestra, la porto nel campo largo. Questo campo largo da lei ai 5 Stelle passando per il PD si farà mai? I 5 Stelle da ieri se le danno di santa ragione tra Grillo che fa anatemi in nome della purezza e Conte che rivendica un'autonomia con l'investitura dal basso della costituente appena avviata. Si riesce a fare il campo largo con questi smottamenti interni ai vari attori? C'è solo una cosa meno credibile del sottoscritto che fa un complotto col fatto ed è il sottoscritto che mette bocca nelle vicende interne dei 5 Stelle. Quindi io su questo tema anche solo per rispetto... Ma non Renzi diplomatico... Ragazzi, ma che vuol dire che mi metta a discutere io dei 5 Stelle? No, però Renzi, la domanda è molto politica invece perché saranno i vostri alleati. La risposta è molto semplice. Per me sì, si farà. Perché? Perché le elezioni politiche, che secondo me è più facile che si tengano nel 26 che non nel 27, saranno oggettivamente radicalizzate. Da una parte ci sarà Giorgia Meloni con a contorno Salvini, forse Vannacci, se non se ne va, vediamo, stiamo a vedere, e Tajani nella versione del portatore d'acqua. E dall'altro lato ci sarà una coalizione intorno al PD e quindi a Elie Schlein. finché Elie Schlein è la segretaria del PD e secondo me sarà segretaria fino alle elezioni e oltre. A quel punto la questione diventerà se i 5 Stelle vogliono vincere le elezioni, staranno dentro la coalizione di centro-sinistra. Se non le vogliono vincere, metteranno i veti e non si preoccuperanno dei voti. Ma hanno altri problemi e io li rispetto. Ci fermiamo per la pubblicità, ma restate inchiodati perché quella piccola fenomenale antologia di questi tre discorsi da videoteca inizia subito dopo, pochi secondi di pubblicità. Di Bella, quanto hai goduto ieri? Dicci, dacci solo il titolo, da 1 a 10? 11. 11! Fermatevi lì. Dall'11 di Bella ripartiamo, ringraziamo Pietro Senaldi. Grazie Pietro. Grazie a voi. E Antonio Patellaro. Posso dire un'unica cosa? No, no, no. Questo è censura verso il povero Senaldi. No, è Mariana che censura. No, perché secondo me non spetta i 5 Stelle. Spetterà la Sline decidere fra Renzi e i 5 Stelle. Ci saremo tutti e perderete le elezioni, Senaldi. Anzi, perderanno perché ci l'hai messo all'usti e non è neanche uno del centro-destra. Scusi, scusi, scusi. Io non sono candidato. Buona serata, Sallusti. A voi.